questo film è trattato da una storia vera motore allora aspetta, Miki tu devi essere qua con noi no no, ho dovuto disfuntare la prima cosa allora dai, io seguo lei e tu segui Miki poi io sono il suo secondo pilone no ok, tu devi dirmi zona ripulita allora, pronti? si, vai, sono andato vai aspetta e azione e ma così vedi, non lo prendi infatti così non lo prendi Miki sbucca di questo lato allora, così tu rimani più su di lui poi quando arriva il suo fratello vai un po' più sul suo fratello allora faccio così poi ritorna con tutti e due comunque stai un po' larga proviamo, si dai vieni più in qua però fai lì una parte più lunga di camminata qua vieni, vieni perché a me non si vede un po' più di sì Miki ma ti come non uscire dall'altra colonna? ah, vuoi che passo per di là? no, no è lui che interno entra deve entrare da di là Mika cosa sai cosa? che qua c'è la luce c'è la luce ma ci sta ah ci sta fai vedere bene il fucile in mano però all'inizio ditemi voi via bisogna ripulita trattellone perfetto lo seguiamo Miki è troppo lontano si è andato aspettalo tu aspettalo devi caricare fermatevi qua mi minchia la carica fermatevi qua mi minchia la carica ma non ci sei caricato subito io pensavo che doveva ah ma no ma no guarda qui c'è la luce qua puoi vederla bene il fratellone non c'è più nessuno per fortuna non mi ricarica si è inceppato oh mio dio non c'è n'era più nessuno non c'è n'era più nessuno non c'è n'era più nessuno ora fai vito di lanciare Gianni non c'è n'era più nessuno fai finito di lanciarlo? eh subito si si eh fai finito di lanciarlo ma aspetta aspetta questa era troppo ho fatto pom va bene dai muoviti dai no non è venuto bene per me dai cazzo lo fai pom eh cazzo l'hai fatto fuori quel bastardo quando non iniziano a parlare tu ti sposti verso di qua va bene sta facendo un trucco aspetta ma si sposta verso di qua e sbucco io mentre loro parlano e poi arriva va bene ok quando iniziano a parlare va bene bevati brutta figlio di puttana l'hai fatto fuori si quel pezzo di merda dai devi spostare grazie a tutti 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 grazie a tutti